ok vintentari benvenuti tutti prima di tutto iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanella per avere tutte le notifiche su quando usciranno i nuovissimi video ma ora toccate matteo buongiorno e benvenuti ieri 27 02 2019 è stato presentato il nuovissimo pokemon pokemon spada il pokemon scudo un nuovissimo gioco di pokemon della ottava generazione che ha per fatto vedere che avevamo già visto in precedenza da massuda che aveva fatto una foto con zelda e ci aveva fatto capire qualche cosa ma ora siamo più certi perché ci ha fatto vedere il trailer il trailer fa vedere che questa volta avremo due nuovissimi personaggi del che faranno maschio o femmina da scegliere quale volete essere voi e avrete una nuova regione la regione galar galar come potete vedere una vasta vasta ragione con diverse palestre che ritornano le palestre e tornano anche dei nuovissimi i primi tre starter di pokemon uno che assomiglia quasi a tartuit ma è una scimmietta che è il nuovo pokemon d'erba è grochi grochi è un pokemon d'erba bellissimo bellissimo poi vediamo un pokemon tipo un coniglietto un nuovissimo pokemon con scorboni 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 e poi un nuovissimo pokemon d'acqua e sorbel d'acqua sono due pokemon bellissimi i nomi non li ho bene bene sapete ma li potete vedere qua questi tre starter poi come possiamo vedere nel trailer quando ci ha fatto vedere la cartina ci ha fatto vedere che sembra che sotto ci sia un vulcano perché in questa città che assomiglia anche a quella del nuovo film che hanno fatto dei pokemon si vede tutto quanto questo vapore è stato proprio game freak e a presentare questo nuovissimo gioco chissà se nel futuro vedremo altri novità di questo pokemon spada e pokemon scudo che ci è sembrato bellissimo ci è sembrato una nuova cosa perché su nintendo switch avere pokemon passare i pokemon avere i vostri pokemon non più nel 3ds è stato più bello vedendo anche come tipo zelda perché era una vasta regione dove dovevi andare in giro potrebbe in giro ci ha fatto vedere che ci sa ci sarà anche alla fine il capo palestra diventi capo palestra per la finale campione e niente per campione della città di galar e una nuovissima regione che ci sono state tantissime cose ma più avanti andremo avanti per vedere altre novità di questo nuovissimo pokemon per nintendo switch pokemon scudo e pokemon spada ebbene scrivete nei commenti qua sotto cosa vi è piaciuto di questo gioco pokemon cosa vi aspettate mettete un bel pollicione e ci vediamo alla prossima tocca a te oh ma dai hai finito il video ci vediamo alla prossima sempre e soltanto nuttentari ciao 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 ciao